Cara nonna, mi sono divertita tanto quest'anno a scuola. Tutto è cominciato quando ho conosciuto i miei nuovi compagni. Qualcuno ha visto un rospo? Un ragazzo di nome Neville l'ha perso. No. Oh, state facendo incantesimi? Naturalmente anch'io ho provato a farne alcuni semplici. E mi sono riusciti sempre. Per esempio... Oculus Reparo! Va meglio, dico bene? È ancora meglio. A scuola sembra tutto magico. Quando chiamerò il vostro nome, verrete avanti. Io vi metterò il cappello parlante sulla testa e sarete smistati nelle vostre case. Hermione Granger. Oh no. Coraggio. Sta calma. Molto bene. Bene. Ci sono. Grifondoro! Tutto sommato, sto iniziando a imparare le cose molto velocemente. Vingardium Leviosa. No, fermo, fermo, fermo. Così caverai l'occhio a qualcuno. Per di più sbagli pronuncia. È Leviosa. Non Leviosa. Fallo tu, visto che sei una sapientona. Dai, forza. Vingardium Leviosa. Vingardium Leviosa. Avete visto, ragazzi? La signorina Granger ce l'ha fatta! Splendido! Vingard Leviosa! Credo che qui ci vorrà un'altra piuma, professore. E questa era solo la prima settimana. Ti racconterò di più in futuro. Con amore, Rose. Grazie! 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 Grazie!